Regione Toscana, il Consiglio regionale Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che racconta le attività del Parlamentino della Regione Toscana. La crisi nel settore moda approva in Consiglio regionale e i gruppi politici approvano all'unanimità una mozione per contrastare la crisi. L'atto di indirizzo chiede azioni di intervento urgenti alla Regione e al Governo nazionale, con la richiesta della Cassa Integrazione estesa anche a tutto il 2025. Nell'atto approvato dal Consiglio regionale si trovano anche una serie di proposte per rafforzare l'importante settore nel lungo periodo. Ascoltiamo con le interviste ai gruppi politici il confronto emerso in aula. Avevo preso un impegno ieri con le lavoratrici, i lavoratori, con i sindacati che hanno scioperato. L'impegno era quello di cercare di uscire con una posizione unitaria che prenda impegni della Regione ma che anche chiede impegni al Governo. Non è il tempo della campagna elettorale, è il tempo di dare risposte a quelle lavoratrici e quei lavoratori che rischiano davvero di perdere il lavoro. Dobbiamo fare in modo che il Governo rifinanzi la Cassa Integrazione anche dopo le otto settimane previste per quest'anno. La Regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto della moda. Oggi a soffrire di più sono le imprese che lavorano nella filiera più bassa e sono soprattutto quelle lavoratrici e quei lavoratori che rappresentano un patrimonio unico a livello nazionale e internazionale. Compito nostro e le istituzioni è mandare un messaggio forte, di unità, così come hanno fatto i sindacati. E sono orgoglioso che l'Assemblea Legislativa abbia accolto la mia proposta e l'abbia trasformata in un atto concreto. Credo sia stato un bel gesto la capacità della politica di unirsi dopo aver ascoltato i rappresentanti dei lavoratori del settore moda che ieri manifestavano per cercare di sostenere questo settore e cercare di aiutare le imprese a superare questa crisi e quindi a continuare a dare occupazione. La sintesi di questa collaborazione, che ha visto un voto unanime di tutto il Consiglio, è racchiusa in un documento dove, accanto alla solidarietà ai lavoratori, si richiede un impegno forte alla Regione Toscana per quanto riguarda le sue competenze, vale a dire le politiche attive, quindi tutte le misure atte a sostenere l'innovazione di processo, a sostenere la possibilità di aggregazione delle imprese. Quindi a creare le condizioni affinché il prodotto che loro offriranno al mercato possa essere un prodotto che recupera competitività. Le altre richieste invece sono rivolte al Governo e sono richieste che riguardano il prolungamento degli ammortizzatori sociali, l'allungamento e l'allargamento a tutti i lavoratori della filiera della moda, della possibilità di avere cassa integrazione, il favorire e mettere a disposizione strumenti di sostegno al credito per quanto riguarda le imprese che si trovano in difficoltà, la creazione di un tavolo fra il Ministero delle politiche sociali e il Ministero del lavoro. Quindi direi che su questo c'è stata un'unione di intenti e credo che sia doveroso nel momento in cui c'è da difendere e cercare di creare le condizioni per il rilancio di un settore che per quanto riguarda la Toscana è fondamentale. Noi ci aspettavamo intanto che fosse presente l'assessore Nardini, la quale non interpreta il proprio ruolo facendo opposizione al Governo, ma noi non pensiamo che sia quella la funzione di un assessore regionale al lavoro che dovrebbe occuparsi di questa crisi, venendo a dirci quanti soldi ha messo in campo alla regione Toscana per contrastare la crisi del settore moda, che è un settore strategico a livello regionale, quali iniziative, quali iniziative da un punto di vista di formazione, da un punto di vista di permettere alle aziende di poter rimanere insediate sul nostro territorio. L'assessore fa o tenta di fare il parlamentare di opposizione, ma il suo ruolo, ahimè, ai noi per la Toscana, è un altro, è quello di governare questa regione. Dopodiché noi diciamo che se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche importanti. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale, fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto, nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo, e nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato, infischiandosene di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati i pestaggi per mano dei picchiatori rimandati da alcuni datori di lavoro. In questi anni non si erano accorti di quello che stava succedendo nella Piana Fiorentina, a Prato. Un dovere politico da parte di tutte le forze politiche che rappresentano il Consiglio regionale, un dovere dopo aver ascoltato ieri i sindacati, un dovere che arriva però da lontano, perché la seconda commissione, su mia sollecitazione, si era già occupata più volte della crisi del settore, aveva avuto modo anche di udire gli assessori e di iniziare un percorso appunto per cercare di dare un contributo attivo e fattivo su questa crisi. Una mozione appunto che va su due binari paralleli, il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle otto settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024, fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro e poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine, la regione toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany e degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni di impresa per far sì che le imprese siano più forti in un settore che in questo momento purtroppo è attaccato, attaccato alle crisi nazionali, attaccato alle crisi internazionali, attaccato al tema della guerra, al tema dell'energia e poi anche quello di comunicare, comunicare, comunicare e portare lontano quello che è il Made in Tuscany, quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, il nostro artigianato, la tutela delle nostre aziende, di un settore ed un comparto che è fondamentale per l'andamento e lo sviluppo di tutta la Toscana. Abbiamo presentato un atto congiunto proprio per far fronte ai problemi gravissimi dei lavoratori di questo settore e devo dire che mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole sia di Forza Italia che della Lega riguardo al fatto, e lo dico in senso ironico, che la Regione debba fare qualcosa perché queste parole le prendo, diciamo, come faro nella presentazione della mia proposta di legge di prossima discussione sulla Costituzione dei Consorsi di Sviluppo Industriale, cioè la sottoscritta insieme al Presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico, nella persona del suo capogruppo Vincenzo Ceccarelli, ha portato alla redazione di una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, a cominciare dall'automotive, ma teniamo ben presente che quello che ci aspetta è una stazione di grandi crisi industriali perché appunto il mondo sta attraversando una grande crisi dovuta a molteplici fattori, quindi coloro che oggi auspicano un intervento della Regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. Un sostegno unanime del Consiglio regionale della Toscana, un comparto a tante donne e uomini che lavorano in difficoltà in questo momento, per noi la moda è un settore traenante dello sviluppo economico della nostra Regione e come tale va sostenuto con delle politiche specifiche, servono misure di welfare, serve l'aiuto e il sostegno ai lavoratori e il motivo per il quale Italia Viva, il sottoscritto, ha firmato e votato convintamente un documento che va in questa direzione. Il Consiglio regionale si occupa di Pellet ed IVA, con un atto approvato nell'ultima seduta e proposto dalla Commissione Aree Interne. In seguito ad un intervento del Governo nazionale, il Pellet godeva di un'agevolazione sull'IVA con la riduzione dal 22 al 10% dell'aliquota applicata sul prodotto. Il vantaggio però è scaduto lo scorso febbraio e oggi l'aliquota è ritornata nuovamente al 22%. Il Consiglio regionale, con un atto approvato in aula con 26 voti a favore da parte di tutti i gruppi politici, ad eccezione del Movimento 5 Stelle che ha espresso voto contrario, chiede alla Giunta di attivarsi nei confronti del Governo centrale affinché, già in occasione della prossima manovra di bilancio per il 2025, venga ristabilita l'aliquota IVA agevolata al 10% per l'acquisto di Pellet. Si tratta di una misura che garantirebbe un supporto concreto alle famiglie, in particolare a quelli residenti nelle aree rurali e montane, che utilizzano questo combustibile come principale fonti di riscaldamento, dando anche un contributo all'impiego del combustibile sostenibile rispetto alle fonti fossili. Una questione molto rilevante, sia per le famiglie, sia per le imprese forestali. Sappiamo che si è diffuso sempre di più il Pellet come fonte dal punto di vista dei consumi domestici in questi ultimi anni, anche perché ha una forte potenzialità energetica e ha ovviamente anche costi più contenuti. Nel 2023 era stata introdotta con la legge di bilancio la diminuzione dell'IVA dal 22 al 10% che è rimasta solo nel 2023 e poi nel gennaio e febbraio del 2024. Siamo ritornati all'IVA al 22% e molti cittadini, molte amministrazioni comunali delle aree montane, dove chiaramente i bisogni dal punto di vista del riscaldamento sono maggiori e dove il Pellet è una fonte sempre più utilizzata. E anche, devo dire, le imprese del settore forestale, per i quali ovviamente la produzione di Pellet è un elemento molto importante dal punto di vista produttivo, chiedono alle istituzioni di reintrodurre questo taglio dell'IVA. Ecco, noi come Consiglio regionale abbiamo voluto porre all'attenzione del Parlamento e del Governo questa necessità importante per le famiglie, per le aree montane e per le imprese di questo settore, dove appunto questa tassazione al 22% non fa che scoraggiare l'utilizzo di una risorsa sempre più importante per tante famiglie. È una proposta interessante che nasce nella Commissione Aria Interne, devo dire passata all'unanimità. Questo perché il Pellet è un materiale a uso per il riscaldamento che viene usato soprattutto nelle zone montane, dove il trasporto del prodotto energetico, perché il metano raggiunge pochissimi centri montani e non solo, devo dire, anche nelle campagne più prossime. E quindi il trasporto del GPL innalza di tantissimo il costo del riscaldamento. È un prodotto peraltro legato al bosco, è un prodotto che in qualche modo crea economie da quello che sarebbe lo scarto e la lavorazione del legno, mette in condizione le famiglie di potersi riscaldare per un periodo più prolungato, perché dobbiamo considerare che montagna, all'inverno inizia prima e finisce dopo, quindi riportare al 10% l'IVA piuttosto che al 22%, come è tornato ad essere da qualche mese, è una proposta veduta che va incontro alla necessità di vivere in quei luoghi, considerando anche che l'aspetto economico delle famiglie che hanno fatto questa scelta o che sono rimaste per l'impossibilità di muoversi è più basso di quello della città. Quindi abbiamo sostenuto con convinzione e speriamo che il governo sia così lungimirante da approvare e riportare appunto l'IVA al 10%. Siamo giunti al termine di questa puntata del Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica settimanale che tratta i temi del parlamentino della Regione Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.